molto bene adesso che cosa vi aspettate eccoci va oh senti un po' una cosa comunque tutti rimane meglio di Maradona ci stanno cazzi tutti meglio di Maradona? ma che cazzo stai dicendo? ma fossi usciti pazzi? noi tenemmo prima Maradona e dopo San Gennaro per farti capire a Napoli sì certo con tre grammi di cocco nel naso so capace pure io così di essere forte ma finisci ma statti sette tu non capisci proprio niente vabbè parliamo di lavoro senti un po' e che andiamo a castigare per primo stasera? dai che c'ho voglia ston bene ma chiamo da Claudio Claudio Laristo Claudio Laristo che cazzo di cognome è Laristo? Claudio l'aristocratico è di aristocratico il cognome è di Rocco ma l'attore? sì vabbè là ci stava tu proprio sti su sti inguagliato voglio vediamo cosa si è fatto andiamo bene vai sì io vi invoio la commanda in tre giorni voilà molto bene buona giornata grazie bravo tieni qualche cosa per noi? ma non avete capito l'ultima volta? oh shhh sei tu che non capisci niente eh? che fai? ritorni dalla Francia e non ti pieghi alle nostre regole casiamo noi che facciamo le regole appena inaugurato il negozio e già mi chiedete il pizza tu sei come una mucca che tiene latte eh? e con tutto il suo patrimonio che tiene noi ti mangiamo ci ungiamo una madre io ne donnerò rient arrivederci ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti